I bambini giocano, i bambini imparano, i bambini leggono, suonano, sognano, inventano. I bambini hanno il diritto di essere bambini. Chi non può cresce nel buio. In Italia esiste un fondo che combatte la povertà educativa per dare luce a chi non ce l'ha. Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Con i bambini cresce il paese.